Buongiorno a tutti, torniamo a parlare di frontalieri oggi con il dottor Cesare Palli, consiglio di amministrazione di Arifida, benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Il tema è chiaramente sempre molto molto caldo, anche perché il numero di frontalieri, caro Cesare, continua ad aumentare qua in Ticino, quindi dobbiamo fare un po' di chiarezza visto che di recente ci sono stati dei cambi per quanto riguarda appunto i rapporti tra lavoratori italiani che vengono a lavorare appunto in Svizzera. Fino all'estate scorsa esisteva la figura del frontaliere, ve ne erano due tipi, c'era il frontaliere che resideva in Italia in fascia, quindi nei comuni, in questa famosa fascia che comprendeva 20 chilometri dal confine e i fuori fascia. Prima di tutto, prima di vedere poi le novità, quali erano già prima di quest'estate e prima dell'estate scorsa le differenze tra questi due tipologi di frontalieri? Allora sì, torno un attimo indietro, in effetti c'è stato un notevole cambiamento o meglio, si è tentato o si è fatto, diciamo si è fatto un riordino di una situazione che con il tempo si era andata a sedimentare e che quindi stava creando delle distonie sia nei rapporti tra Italia e Svizzera che di comprensione per gli stessi contribuenti. Mi riferisco in questo, giustamente tu ci stavi spiegando la differenza tra i frontalieri di fascia rispettivamente a quelli non di fascia, quindi quelli che venivano chiamati fiscali piuttosto che no, la differenza stava proprio in questo, i cantoni avevano indicato all'interno delle loro prassi delle liste di comuni che erano considerati come facenti parti del frontalierato, quindi se un contribuente era un dipendente, perché stiamo parlando solo e unicamente di lavoratori dipendenti, quindi gli indipendenti non ne sono parte, che questo è anche importante perché purtroppo c'è anche su questo aspetto molta confusione, comunque i lavoratori dipendenti che risiedevano e risiedono in uno dei comuni indicati in quella lista e venivano quotidianamente a lavorare in Svizzera, quotidianamente a lavorare, quindi uno spostamento fisico intendiamo, per poi rientrare giornalmente nel comune di residenza e erano assoggettati unicamente all'imposta alla fonte Svizzera. Ora, quelli invece che non rientravano in quei listati, in quelle liste, invece dovevano subire una tassazione concorrente. Scusate l'interruzione, ma volevo ricordarvi che potete cambiare il vostro stipendio da franchisvizzeri in euro sul sito cambiavalute.ch. Lo so che ancora tantissimi di voi vanno in banca, prelevano lo stipendio, poi si mettono in macchina e devono cercare parcheggio per recarsi all'ufficio cambio, ma questo oltre ad essere molto scomodo e a farvi perdere tempo, vi fa anche perdere soldi perché il cambio online su cambiavalute.ch è estremamente conveniente. Tra l'altro, se andate sul sito di cambiavalute.ch e visitate la pagina promo, potete guadagnare 25 euro con il vostro primo cambio, se siete già nostri clienti, ci presentate un amico, potete guadagnare entrambi 25 euro e addirittura se ci presentate una ditta per voi 500 franchi. Ora finite pure di vedere l'intervista con il dottor Palli, ma appena finita andate su www.cambiavalute.ch e se ancora non l'avete fatto provate a fare il vostro primo cambio online. Vedrete, non tornerete più indietro. La tassazione concorrente quindi pagavano le imposte in Svizzera, mediante il meccanismo dell'imposta alla fonte, e andavano a integrare in Italia mediante il calcolo dell'IRPF. Fino a luglio, quindi stiamo parlando, fino a una certa data vigeva il meccanismo poi delle franchigie che una volta era 7500 euro, adesso cambia il paradigma, 2024 questa franchigia è passata a 10.000 euro all'anno, attenzione 10.000 euro all'anno a prescindere dei giorni lavorati in Svizzera. Ma cos'è che è successo appunto, cos'è che è cambiato dal 17 luglio del 2023? Qual è stato questo nuovo paradigma? Ma cos'è successo e chi sono i nuovi frontalieri, perché c'è stata una data in cui i frontalieri da vecchi sono diventati nuovi. Cosa cambia? Allora, quello che cambia è stato andare a creare uno spartiacque per andare a determinare chi potesse essere al beneficio della posizione di frontaliere fiscale, chi quindi poteva continuare a beneficiare dello status di frontaliere come era inteso prima, ergo pagare unicamente l'imposto alla fonte, piuttosto che no. Allora, il primo aspetto è, avevamo un periodo di, diciamo, di computo per andare a ricomprendere quelli che sarebbero stati, diciamo, i frontalieri fiscali e che mantenevano quel tipo di status, quindi dal 31 dicembre 2018 fino al 17 luglio 2023, chi avesse maturato un periodo di lavoro in Svizzera, e si badi, bastava anche solo un giorno, quindi non occorreva essere in possesso, contrariamente a quello che magari si legge talvolta, essere in possesso di un premesso Gini. Per due motivi, perché il permesso G viene dato, innanzitutto, stiamo parlando di un campo amministrativo, non tributario, quindi il permesso G comunque viene rilasciato soltanto quando si è avverito un permesso non di breve durata, quindi oltre 90 giorni. In questo caso anche un singolo giorno in Svizzera? Anche un singolo giorno, quindi la tipica notifica di breve durata, anche solo con la notifica di breve durata, oppure il cittadino svizzero che non può avere, o meglio, non ha solitamente il permesso G, beneficia comunque di... Quindi chi aveva lavorato nel periodo intercorrente sino al 17 luglio 2023 in Svizzera, essendo residente in uno dei comuni della fascia di frontiera, elencati nelle disposizioni cantonali della prassi, allora era sicuramente un frontaliere fiscale, quindi corri entro giornaliero e manteneva lo status fiscale maturato. Questo fino a quando? Mi permetto magari di anticipare. Vai, vai, vai. Questo fino alla pensione, è uno status maturato e che non si perde. Ecco, infatti ti avrei chiesto se i vecchi frontalieri manterranno lo status di vecchio frontalieri per sempre oppure no, perché c'è un po' questa paura che tra un pochettino cambiano ulteriormente le cose, magari chi ha fatto dei mutui magari basati su una determinata retribuzione si trovi tra virgolette fregato, invece no, questo è un... il vecchio frontaliere rimarrà vecchio frontaliere a vita. Il vecchio frontaliere rimane vecchio frontaliere a vita, si legge anche qui talvolta delle considerazioni se il residente di Como viene a vivere in Svizzera e se poi un domani esce da quel paradigma, cioè da quello status, per poi un domani rientrare come residenza sempre in Italia, in fascia, se manterrà quello status. Secondo me sì, sinceramente, però questa è la mia opinione, ho letto che ci sono opinioni contrastanti, però per chi ci ascolta, ogni caso avete visto che Cesare è molto puntiglioso e specifico e metti sempre quelli che vengono definiti disclaimer ogni volta che parli perché bisogna farlo, ogni caso poi è specifico ed è sestante, quindi lo dico già ora, se qualcuno avesse qualche dubbio in descrizione del video trovate i riferimenti del dottor Palli, così che nel caso aveste bisogno di una consulenza specifica potete assolutamente contattarlo. Detto questo, con riferimento ai vecchi frontalieri fuori fascia e ai nuovi frontalieri, ci sarà uno scambio di dati tra Italia e Svizzera? E altra domanda, l'autorità fiscale elvetica trasmetterà all'Italia le informazioni reddituali del nuovo frontaliere? E altra domanda sempre in questo tema, è vero che l'Agenzia delle Entrate italiane metterà a disposizione una dichiarazione precompilata, basata su dati ricevuti dalla Svizzera? Partiamo dall'ultima, che è quella che mi ricordo. Ok, poi ti rifaccio le altre. Partiamo dall'ultima, assolutamente sì, segnalo peraltro che questo era già stato indicato ai tempi ancora, mi ricordo, dal governore. Ok, quindi c'è comunque uno scambio di informazioni? Di fatto una sciopa addirittura, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sarà quindi, verrà rimessa la precompilata, che uno potrà aderire a questo strumento, si farà assistere a un commercialista rispettivamente anche solo dal CAF. Quindi la risposta è sì. Ora, cosa accade? Per quanto riguarda quindi i nuovi frontalieri, parliamo di nuovi frontalieri, quindi sono le persone che hanno iniziato a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023. Queste persone saranno soggetto a scambio di informazioni, non soltanto loro, torno un attimo indietro, anche i frontalieri fuori fascia, cioè quelli che non sono, stiamo parlando sempre fascia fuori fascia, anche se questi ormai sono dei termini diventati quasi inappropriati, perché in realtà sono nelle liste o non sono nelle liste, banalmente, perché le cose devono essere facili, se no non si capisce mai cosa si intende. E' importante, già che ci siamo, casomai diciamolo, ci sono dei comuni che sono all'interno delle liste e quindi che fanno parte di questa fascia, la fascia non la decidiamo noi. No, allora finalmente è stato dato un certo tipo di ordine per andare a determinare effettivamente chi è al beneficio piuttosto che no, cioè chi è un frontaliere di fascia piuttosto che no, esiste un'eleccazione puntuale che è stata condivisa tra i due stati, e dico finalmente, perché prima era semplicemente una prassi interna svizzera, che era diciamo stata condivisa nei modi anche dall'Italia, però ora abbiamo proprio un'eleccazione puntuale, sono state aggiunte addirittura dei territori, delle province, quindi prima non, ad esempio la provincia di Bolzano non era presente. Quindi, diciamo, tornando un attimo alla questione, cosa accadrà? Bene, questo interverrà uno scambio e questo scambio riguarderà i dati anagrafici delle persone, questo scambio deve avvenire entro il 20 marzo dell'anno successivo, cosicché l'Italia, entriamo nel merito, l'agenzia delle entrate, possa formare la dichiarazione precompilata e proporla al contribuente. Ora, quindi ci sono i dati anagrafici della persona, i dati reddituali, quindi quanto è il reddito ritratto in Svizzera, quanti sono le deduzioni subite, è meglio l'imposta alla fonte e anche gli aspetti contributivi. È utile al proposito andare a indicare che, ad esempio, i segni familiari non sono, diciamo, sono deducibili, non sono parte del reddito imponibile, insomma sommarum. Poi ci sarà l'indicazione del codice fiscale del contribuente e quindi del dipendente e allo stesso modo l'identificazione dell'azienda. Perfetto, si parla poi di franchigia, c'è una franchigia fiscale di 10.000 euro, cos'è e come funziona. Ok, allora. E se possiamo magari fare anche un esempio pratico con un nuovo frontaliere che guadagna 50.000 franchi l'anno. Perfetto. Allora, il nuovo frontaliere che guadagna 50.000 franchi all'anno avrà innanzitutto la possibilità, uno, di scomputare, come abbiamo detto, i contributi. Ok. Attenzione perché i 50.000 euro sono lordi. Ok, 50.000 franchi lordi. Lordi da imposte. Ok. Quindi, cioè, non prendiamo il reddito netto e poi no. Ok. Cioè, in busta paga non dobbiamo guardare la riga finale del cedolino. La riga finale ma quella in alto. Ma in realtà, in realtà dovremo prendere quella in alto. Ok. Quindi, però avremo la possibilità di scomputare che cosa? L'LPP. Ok. La VS e tutte le assicurazioni sociali. L'assicurazione di fortuni, malattie, eccetera, eccetera. E una volta che sono andato a determinare quanto è il reddito annuo ho anche la possibilità di andare a dedurre la franchicia ai 10.000 euro. 10.000. Ok. Una volta che sono andato a identificare quanto è il reddito imponibile annuo, posso andare a quel punto a determinare quanto sarebbe la mia imposizione in Italia. Ok. Voi sapete che almeno per quanto riguarda il 2024 gli scaglioni sono tre. Quindi, cioè, riusciamo a comprendere quanto è l'imposizione di ciascuno di noi e sulla base di questo andare a determinare quanto sono le imposte dovute. Attenzione perché in Italia le imposizioni sono a scaglioni e sono progressivi e gli scaglioni, ogni scaglione va a determinare un'imposta. Quindi c'è la marginalità. Ok. Fino a 23 se non sbaglio, c'è un certo tipo di imposizione, nello scaglione successivo va a determinare la marginale, eccetera, eccetera. Una volta che ho indicato quelli che sarebbe il dovuto ho la possibilità di scomputare l'imposta della fonte subita. Ok. Ok. Oltre a questo poi ci saranno le detrazioni personali. Ok. Che sono quindi sanità, proprio quelle generali da lavoratore dipendente, eccetera, 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 in base alla condizione personali. Attenzione perché è importante che questo, noi adesso stiamo ragionando per semplicità solo al caso in cui l'unico reddito ritratto sia quello da lavoro dipendente. Perfetto. Ok? Ok. Ricordiamoci che se ho altri redditi che l'esercizio comunque va computato in maniera complessa. E fa cumulo. E fa cumulo. Ok. Ok. Questo... Quindi con l'esempio, appunto, un dipendente in Svizzera che guadagna 50.000 franchi l'ordo, cosa cosa succede quindi, più o meno? Qual è il caso pratico? No, attenzione. Proprio perché l'Italia non è semplice. Ok. Non riusciamo ad arrivare a una città. Ok. Ok. Riusciamo soltanto a determinare, a dare a indicare qual è il modus operandi corretto. Ok. Perfetto. Quindi il criterio è questo e poi caso per caso, purtroppo, ai noi... Perché dipende da quanti figli ha, se ha un altro reddito in Italia, quindi è... Se ha un altro reddito in Italia e le condizioni italiane particolari di detrazione, ad esempio. Chiaro, chiaro, chiaro. Sia di cumulo che di detrazione. Quindi no, non si riesce ad arrivare a un numero, sarebbe bello. Sarebbe bello, ma sai com'è? Io vivendo in Svizzera sono abituato a cose un po' più semplici, quindi ho fatto magari la domanda sbagliata. Forse merita un attimo un chiarimento anche quella che è il criterio, perché si legge spesso nella questione dell'imposto alla fonte all'80%, 100%, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che secondo me bisogna andare a semplificare, altrimenti non si comprende. Allora, diciamo che il datore di lavoro indica già delle aliquote imposte alla fonte che sono basate sulla base delle proprie condizioni, cioè c'è già, interviene già una cernita tra vecchio frontaliere, nuovo frontaliere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sulla base, delle proprie condizioni, credo che proprio in questi giorni i datori di lavoro stiano coinvolgendo i propri dipendenti perché hanno l'obbligo di proporre loro un questionario che è autodichiarativo, attenzione, dove si va a indicare quali sono le condizioni familiari, di residenza, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sulla base delle proprie condizioni l'imposta alla fonte è quella. Semplifichiamo al massimo perché la questione del 100% piuttosto che 80% è proprio perché in un caso si applica per i nuovi rispettivamente per i vecchi, ma le tabelle sono già state fatte, non ci dobbiamo andare a preoccupare, ah no ma la mia imposta alla fonte era il 10, adesso è l'8, no, è quella, partiamo dal presupposto che i datori di lavoro abbiano fatto bene il loro lavoro, che il singolo dipendente abbia dichiarato il corretto per quanto riguarda le proprie, per poter andare a indicare le proprie condizioni personali e determinare la corretta aliquota di imposta alla fonte, quindi va bene così. Sì, direi che ci sono tantissime sfaccettature. È questo, secondo me la cosa che emerge da questa chiacchierata è che tutti i tentativi che vengono fatti anche online di semplificare, però sono anche rischiosi perché tendono a confondere o magari a far credere a un frontaliere di avere una determinata situazione quando non ce l'ha. Anche se in realtà proprio ieri a me è capitata una cosa felice perché c'era una persona che temeva di non essere vecchia frontaliere e mantenere quel titolo, o meglio quel tipo di status. Certo. In realtà era così. Ah, quindi non sempre. Non sempre ne esso ci sono, bisogna essere ottimisti comunque. Ottimisti, ottimisti. Mi permetto anche di segnalare che proprio di recente è intervenuta, diciamo, la ratifica dei finiti, è passato il cosiddetto decreto omnibus proprio nel mese di ottobre che tocca un'altra particolare fascia di frontalieri che riguarda quelli che potrebbero essere soggettati all'imposta sostitutiva del 25%. Ma io direi, non addentriamoci troppo. Assolutamente. E poi noi volentieri saremo a disposizione sia dei... Ripeto, trovate i contatti del dottor Palli in descrizione del video. Così, per concludere diciamo che i temi principali comunque a cui fare attenzione sono. Intanto capiamo sempre bene se siamo o no dei frontalieri, perché tante volte nella storia dei rapporti tra Ticino e Italia tante persone hanno deciso in autonomia di essere frontalieri quando non lo erano. Per esempio, chi non è un lavoratore dipendente non è un frontaliero. Non è un frontaliero. Ma ce ne sono... Inteso come lo intendiamo noi. Certo, certo. Ok, quindi non è un frontaliere, diciamo, inteso tale da convenzione a livello di fiscalità. Ok. 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 Che poi si recchi quotidianamente. Certo. Poi c'è tutta la tematica del telelavoro, ma anche su questo... Quello faremo qualcosa di specifico, assolutamente. Quindi, davvero è un ambito che sembra semplice. Certo. Ma ci sono delle interconnessioni anche con altre norme che fanno sì che si debba affrontare la cosa con estrema accortezza. Già sapere che non siamo noi, per esempio, con Google Maps a decidere se siamo nella fascia di confine. Non più. C'è stato un momento che... Esatto. Però adesso sappiamo esattamente quelli che sono i comuni. Anzi, vi lasciamo anche in descrizione la lista con proprio tutti i comuni, così che non dobbiate fare calcoli strani col GPS per vedere se siete o no nella fascia di confine. Dramaticamente c'era chi... Eh, esatto. No, no, ma sono casi reali. Sì, sì, sì. Grazie mille Cesare. Grazie Luca. Quando avremo di nuovo bisogno ti contatteremo. A disposizione, grazie mille. Trovate tutti i link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata.